Mi intrometto, mentre Stefano si avvicina mi intrometto e poi restituisco il microfono a Patrizio. Per dirvi questo, che c'è stata una mattinata, siamo un po' alla fine della mattinata, ma noi andiamo avanti per tutto il pomeriggio, molto intensa come io avevo anticipato. Io voglio ringraziare in particolare due degli interventi, che sono stati quelli di Don Massimo e adesso Mario, il direttore di Banca Etica, perché è un modo di discutere di noi e tra di noi, ma considerando quello che succede fuori e quello che da fuori ti arriva e ti racconta di come gli altri leggono gli stessi problemi di cui dovremmo occuparci noi. Abbiamo ascoltato interventi molto autorevoli, altri ce ne saranno, ci saranno interventi dei segretari di circolo, tanti che sono venuti apposta per questa giornata. È chiaro che c'è un andamento anche fisiologico della giornata, perché forse abbiamo un po' smarito anche noi l'abitudine a ritrovarci e a discutere. Io, che ormai ho un'età significativa, nel mio partito, quello in cui mi sono iscritto, facevo dei congressi, quello nazionale a cui partecipai la prima volta durava cinque giorni, era un'eternità. Facemmo una riunione dell'organismo dirigente che discusse di una materia importante che era la svolta dell'89 che durò quattro giorni, non ci sono più quelle abitudini, però invece ve lo dico, mi sono intromesso a quest'ora di calo degli zuccheri, per dirvi che recuperare la capacità di discutere, di stare, di ascoltarsi, di trovare le ragioni dell'altro che ti aiutano a capire le tue, è una cosa fondamentale.